C'è una serie di scelte che vanno nella ridefinizione del Fondo per le Aere Sottutilizzate, che riguardano interventi diretti anche nei confronti del Mezzogiorno. Nonostante questo, nei prossimi giorni il Governo varerà, io mi auguro che le vicende politiche lo consentano, in via definitiva il piano complessivo per il Mezzogiorno che metterà in modo organico insieme gli interventi di realizzare. Il Ministro per gli Affari Regionali, Raffaele Fitto, all'Aeroporto Militare di Bari, parla di una maggioranza che pensa al Paese, un'Italia in cui non c'è soltanto una maggioranza parlamentare, ma anche un dato elettorale che è sotto gli occhi di tutti e che ha avuto diverse conferme. E allora, li chiediamo, si andrà alle elezioni anticipate? Nel momento nel quale dovessero esserci atteggiamenti tesi a interrompere ciò che gli elettori hanno indicato come il Governo del Paese, e evidentemente ci avviciniamo molto rapidamente per quanto ci riguarda le elezioni anticipate. E per quanto riguarda l'incremento di 45 milioni di euro per il 2011 previsti dal Maxi emendamento per le emittenze radio e televisive locali? Lo vedremo e lo verificheremo. Sono tutti aspetti fondamentali e importanti ai quali rivolge la massima attenzione in un contesto però molto complesso. L'obiettivo del Governo è quello di voler realizzare interventi che vadano anche in questa direzione, quindi mi auguro che a partire da questo provvedimento, ma anche eventualmente dai successivi, ci possa essere un'attenzione in tal senso. Anche sulla questione della venita delle frequenze e dell'asta che si preparano? Ma guardi, lo stanno portando avanti i ministri competenti, sono scelte del Governo, ma io sono abituato anche a stare un po' sulle competenze. Di fondi per l'emittenza locale ha parlato anche Massimo D'Alema, presidente del Copasir. Credo che le televisioni locali sono una ricchezza del Paese, fanno parte di quel tessuto di imprese piccole, medie, che rappresenta la ricchezza del Paese. Penso che si debba fare qualcosa per cercare di salvarle e di evitare che siano schiacciate da una logica monopolistica.